Zach Muscat è il nuovo acquisto dell'Arezzo. Si tratta di un difensore classe 93 che fa parte della Nazionale di Malta. Il 3 settembre scorso infatti ha giocato titolare con la sua nazionale contro l'Italia di Antonio Conte nelle qualificazioni agli europei. Adesso probabilmente diventerà un pilastro dell'Arezzo, visto che ha firmato un contratto biennale. Sarà a disposizione di Sottili fin dal raduno previsto da metà luglio. Il giocatore, dallo scorso mese di gennaio, militava nell'Akragas, collezionando 17 presenze in Lega Pro. Ha un palmaresse importante anche a livello internazionale, con 12 presenze nella Nazionale Maggiore, 15 con l'Under 21 e 4 in Europa League con il Birbircara, club del suo paese con il quale ha vinto anche un campionato, una Coppa e due Supercoppe di Malta, collezionando con questa maglia ben 100 presenze e 8 reti tra il 2012 e il 2016. La prima esperienza nel Pietà Osports con 21 presenze e due reti. Poi è arrivata l'esperienza al Birbircara e quindi l'Akragas nel 2016 con 17 presenze con la Nazionale, 15 presenze dal 2014 ad oggi, 15 nell'Under 21, una nell'Under 19.